Cosa sono gli alunni dilatati? Una persona con pupille dilatate è facile da riconoscere perché i suoi alunni appariranno più grandi del solito. Gli alunni sono i cerchi scuri situati nel mezzo dell'occhio. Una pupilla è circondata dall'iride, la colorata membrana dell'occhio. Fissati all'iride sono i muscoli che controllano le dimensioni della pupilla. Quando questi muscoli si muovono sull'iride, le pupille si dilatano. Lo scopo principale degli alunni è far passare la luce attraverso l'occhio. Gli alunni si dilatano e si contraggono, in base alla quantità di luce necessaria. Quando la luce è limitata, o c'è completa oscurità, gli occhi si dilatano naturalmente nel tentativo di far entrare più luce. Se le pupille rimangono dilatate anche in piena luce, tuttavia, questa potrebbe essere un'indicazione di una condizione che potrebbe richiedere cure mediche. Dal punto di vista medico, quando le pupille sono dilatate e quando normalmente non lo sono, la condizione è indicata come emidriasi. Di per sé, le pupille dilatate non sono una condizione seria. Se gli occhi sono esposti alla luce troppo a lungo durante la dilatazione, tuttavia, possono danneggiare la vista di una persona. Inoltre, è possibile che la dilatazione sia un sintomo di un problema medico più serio, incluse condizioni potenzialmente letali come emorragie, tumori cerebrali, aneurismi o ematomi. L'ingestione di sostanze chimiche tossiche o molti tipi di medicinali o droghe può anche causare la dilatazione delle pupille. La diagnosi della causa degli alunni gravemente dilatati richiede un esame della vista e un esame fisico e neurologico. Traumi cranici o traumi agli occhi possono indurre pupille dilatate. Dopo una lesione, l'iride può essere colpita, causando la non costrizione della pupilla normalmente. Una condizione chiamata sindrome della pupilla tonica di adie può anche influire sulla dilatazione delle pupille. Questa condizione, che colpisce soprattutto le giovani donne adulte, fa sì che le pupille reagiscano più lentamente del solito alla luce. I farmaci, inclusi antistaminici e antidepressivi, possono influenzare la dilatazione della pupilla. Alcuni farmaci, come la psichedelica, compresa la dietilamide dell'acido lisergico e la marijuana e gli psicostimolanti, come le anfetamine e la metanfetamina, possono causare pupille dilatate. Inoltre, il ritiro dai narcotici può anche causare la dilatazione della pupilla. A volte gli occhi sono dilatati di proposito, di solito quando un individuo va per un esame della vista. Durante la visita, il medico posizionerà spesso le gocce medicinali chiamate midriatici negli occhi. La medicina costringe gli occhi a dilatarsi, permettendo al medico di vedere meglio la retina liride e di vedere anche come reagiscono gli occhi alla luce.